So bene che non siamo tutti fotografi o videomaker a questo mondo, però credo che a tutti quanti almeno una volta nella vita sia capitato di dover mandare delle immagini a qualcuno. Ora, se si tratta di 3 o 4 immagini fatte col cellulare, so benissimo che le starete mandando con Whatsapp, ignorando i miei avvertimenti che vi avevo lanciato in un video in cui parlavo proprio di cosa succede quando mandiamo le foto tramite Whatsapp, ve lo lascio linkato in card, andatevelo a recuperare e guardate che non è una cosa da sottovalutare perché i vostri file sono in grandissimo pericolo, ma andate a scoprire perché in quell'altro contenuto. Ora però che cosa succede invece se le immagini sono tante? Perché per esempio Whatsapp consente di inviare 30 immagini alla volta, ma se noi dobbiamo mandarne 300 che cosa succede? Che dobbiamo fare 10 invii? Ecco che diventa già un pochettino scomodo. Ora se vi trovate in questa condizione di dover mandare tante immagini che siano fatte col cellulare oppure no, faccio oggi questo contenuto per mostrarvi come io mando solitamente le immagini ai miei clienti o anche agli amici, quindi metodi per inviare file anche pesanti, grosse quantità di file al cliente finale, all'utilizzatore finale, sia da cellulare che da desktop. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e siccome anche oggi mi sono occupato a profusione di fotografia e videomaking, vi porto un contenuto in cui vi racconto come io condivido i miei file con i miei prevalentemente clienti, ma talvolta anche con amici e parenti. Sì, perché condividere i file è una questione non di poco conto, infatti i file d'uscita delle nostre fotocamere e videocamere spesso pesano tanto e quindi magari non sono adatti a essere condivisi in chat sui social media, perché pesano tanto, perché consumano tanta banda, perché ci mangiano via un sacco di traffico dati per l'invio, perché ci metterebbero tantissimo tempo a essere inviati e obbligheremmo la persona che li riceve a stare lì ad aspettare di riceverli, senza contare che l'invio tramite chat comprime le immagini, anche per questo ci mettono tanto, perché vengono nel frattempo compresse e quindi quello che arriva non è l'immagine a piena risoluzione, ma è un'immagine che ha perso tantissime delle sue caratteristiche, tantissime delle sue informazioni e quindi per esempio non è più adatta a essere stampata. Quindi per esempio nel momento in cui io mando una foto a un cliente che vuole stampare qualcosa, non posso proprio mandargli le via chat e poi non è professionale, quindi ci sono dei metodi più professionali che consentono l'invio di immagini senza perdere qualità e consentono l'invio di un grosso quantitativo di immagini senza stare lì col telefono tutto il giorno e inviando dei pacchetti che arrivano a destinazione pronti per essere scaricati dall'utilizzatore. Facciamo una piccola classifica e parto dal più scontato, WeTransfer. WeTransfer molti di noi lo conosceranno, ma molti no invece, perché io continuo a sentire gente, non fotografi, però gente in generale che mi dice ma come faccio a mandarti materiali, ma come faccio a mandarti questo che non ci sta nella mail, come te lo mando, come faccio a mandartelo? Molta gente non lo conosce. WeTransfer è un sito che mette a disposizione un protocollo FTP, quindi un protocollo di trasferimento dati. Come funziona questo protocollo? Io devo inserire la mia mail, quindi inserisco la mia mail personale nel primo campo, inserisco la mail del destinatario nel secondo campo, quindi ovviamente per mandare qualcosa a qualcuno devo sapere il suo indirizzo mail, dopodiché seleziono i file che gli voglio mandare, li carico su questo FTP e vengono inviati. Alla persona a cui le ho mandate viene recapitato un link al click del quale è possibile scaricare le immagini che io gli ho mandato in piena risoluzione esattamente come io gliele ho spedite. Questo è il principale metodo di trasferimento di file di grosse dimensioni al giorno d'oggi. Quando un fotografo professionista, un videomaker o chi che sia vuole mandare un quantitativo di immagini medio a un proprio cliente o a chi che sia, di solito utilizza un metodo come questo, perché è rapido, gratis, indolore e ci permette di recapitare il pacchetto senza dover andare in giro con una chiavetta magari. Io non porto una chiavetta al mio cliente. Magari ho dei clienti che non sono neanche a Milano, non posso metterci dieci giorni a spedirgli una chiavetta o a portargiela di persona. Quindi gli mando un we transfer e gli arriva immediatamente. Faccio l'esempio, proprio questa settimana ho collaborato con il team di Londra di una grossa azienda, il file è stato recapitato tramite FTP, non potevo certo fare una busta e spedirgli una chiavetta a Londra, gli sarebbe arrivata dopo due giorni, ce l'avevano bisogno subito. Per cui questo è il primo metodo. Ve lo cito per primo perché è il più comune, molti lo conosceranno già. Ve ne cito un secondo che è un altro protocollo FTP sempre gratuito. Attenzione, io vi dico gratuito nel senso che esiste una versione gratuita. Poi c'è la versione premium che ha pagamento e consente di caricare un quantitativo maggiore di dati. Infatti we transfer consente fino a 2 giga di dati. Se compriamo la versione premium sono molti di più, non mi ricordo quanti sono, 20, una roba del genere. Insomma abbiamo molto più spazio e invece di durare 7 giorni dura finché noi non togliamo i materiali. Quindi abbiamo la versione gratis che dura 7 giorni e ha una capienza limitata. Abbiamo la versione a pagamento che dura finché lo decidiamo noi e ha una capienza maggiore. Secondo sistema abbiamo file mail che funziona esattamente nello stesso modo. Quindi noi dobbiamo dare la nostra mail, la mail del destinatario e poi carichiamo i file e questi vengono inviati. File mail è molto meno conosciuto, è molto meno utilizzato, però consente fino a 5 giga di invio. Quindi è molto più grande per cui conviene nel momento in cui abbiamo un invio massiccio da fare. Se io devo mandare foto uso we transfer, ma se devo mandare video magari preferisco usare file mail perché ci sta più roba. Quindi magari invece di fare 10 we transfer faccio solo due invii con file mail, mi conviene. Ora l'inconveniente di file mail è che a differenza di we transfer, we transfer io posso mandarne anche 400 al giorno, lui non si offende. File mail invece siccome è più capiente me ne consente solo due al giorno, dopodiché mi blocca l'ip. Quindi abbiamo a disposizione 10 giga di invio al giorno, usiamoli bene. Esistono ovviamente altri tipi di protocollo, esiste per esempio Smash, esistono altri tipi di piattaforme che offrono esattamente lo stesso servizio, esistono tutti i vari sistemi di cloud, quindi c'è il cloud di Apple, il cloud di Google, sono tutti i sistemi che ci permettono di stoccare delle immagini in cloud, quindi online, e recuperarle successivamente. Esiste anche il servizio Amazon Photo che per gli utenti Amazon Prime per ora è gratuito e illimitato, per cui io posso caricare un numero illimitato di fotografie su Amazon Photos e posso magari condividerle da lì. Non è il massimo della professionalità questo. Infatti al massimo della professionalità io vi colloco Google. La piattaforma cloud di Google che in questo momento si chiama Google Workspace, ha cambiato nome due o tre volte in passato, quindi è passata da chiamarsi G Suite, adesso si chiama Workspace e qualcuno di voi la conoscerà semplicemente come Google Drive, perché la versione consumer si chiama Google Drive. Quello è il metodo più professionale in assoluto secondo me, perché, intanto perché una Gmail fondamentalmente ce l'abbiamo tutti, non si può più vivere senza una Gmail, quindi a chiunque la mandiamo una Gmail per scaricarlo ce l'avrà. Quindi massima comodità, noi inviamo il link alla persona in questione, arriva il link, la persona tramite il proprio indirizzo mail, entra nel drive, nel nostro drive di Gmail e si scarica i file. E a quel punto abbiamo i 15 giga di spazio del nostro Google Drive o di più se li abbiamo comprati o ancora di più se abbiamo la suite di Google Workspace a pagamento. Per esempio io ho la Workspace a pagamento e quindi ho due tera al momento che mi bastano e avanzano. Magari un giorno faccio l'upgrade se non mi bastano più e pago un po' di più, però per il momento mi bastano e avanzano. Quindi quando io devo mandare dei file a un cliente e voglio che gli rimangano a disposizione senza che scada il link come sulle piattaforme precedentemente citate, uso questo, uso il cloud di Google. Un altro sistema che funziona in maniera analoga è Dropbox. Dropbox a me non piace per niente perché l'ho preso male da subito con quel sistema che aveva una volta che tu dovevi aggiungere amici per avere più giga e altrimenti te li dovevi comprare. Insomma io l'ho preso malissimo da subito perché ho aggiunto tre amici che me l'hanno riempito di roba loro condividendo cose e quindi mi è rimasto bloccato per così tanto tempo che mi sono detto questa piattaforma non fa proprio per me e non l'ho mai più utilizzata. Voi sentitevi liberi di utilizzarla perché comunque è un sistema valido. Su tutte queste piattaforme esiste la possibilità di creare un link condivisibile anche esternamente, quindi anche per chi non fa parte di quel drive, anche per chi non fa parte di quell'organizzazione è possibile creare un link che può scaricare chiunque. Fatelo con attenzione ovviamente perché significa che se voi lo mandate a una persona quella persona può mandarlo a tutto il mondo e tutto il mondo può scaricarsi i materiali quindi da usare con un minimo di accortezza però è possibile farlo. Ora questi erano i miei metodi preferiti per condividere materiali con clienti, amici e familiari ma adesso aspetto che voi mi facciate sapere nei commenti che cosa utilizzate voi perché io vi dico la mia parte però se qualcuno di voi ha trovato delle soluzioni migliori. Io sono tutto recchi, non vedo l'ora di imparare qualcosa di interessante da voi nel frattempo vi ricordo che se volete ricevere aggiornamenti su questo e altri temi legati al mondo della fotografia e del videomaking io vi invito comunque sempre a iscrivervi al canale cliccando il bottone rosso qui sotto e attivate anche la campanella per non perdervi le notifiche. Signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti per aver guardato il video.